Non era una partita facile, lo sapevamo, l'abbiamo preparata cercando comunque di giocare il nostro gioco, cercando di essere in non possesso palla, molto aggressivi, sapendo che loro probabilmente sarebbero stati molto bassi, ci avrebbero aspettato, per noi era importante andare a recuperare la palla, abbiamo deciso di andare a recuperare la palla facendo delle pressioni al portatore più sulle zone esterne e la cosa importante è poi che non rischiavamo le loro ripartenze, i loro contrattacchi sul campo aperto, quando avevamo la palla secondo me abbiamo fatto una buona gara, ci siamo mossi tutti, cercavamo tutti di giocarla molto velocemente, abbiamo avuto nel primo tempo soprattutto tante occasioni, poi siamo stati bravi nel secondo a non forzare le giocate, siamo stati secondo me bravi a continuare a muovere il pallone molto velocemente e credo che alla fine il gol sia meritato come sia meritato per quello che i ragazzi hanno fatto vedere i tre punti. Il prossimo match è che stiamo giocando Gorica e Poldo, è anche un match molto importante per noi, ti perdereai Stefano Simic che ha tre card yellow. Purtroppo l'assenza di Stefano fa assommarsi anche con l'assenza di Dimitri e di Niat, sono quelle situazioni in cui bisogna inventarsi qualcosa, abbiamo fortunatamente tre giorni di tempo per pensare bene a come cercare di comporre la linea difensiva e sono convinto che troveremo una soluzione anche per la prossima gara. La nostra squadra, la nostra squadra, la nostra squadra, oggi ha vinto la championship, quindi possiamo ringraziare anche loro perché questo è un buon giorno per l'Haiduk, abbiamo vinto qui in Varazin e hanno vinto la championship. Complimenti di cuore perché ho seguito da vicino quella che è stato il percorso, la strada che hanno fatto questi ragazzi, la conferma ancora di più di come questa società, questo club giustamente punta molto sulla valorizzazione dei giovani, sulla loro crescita e anche oggi abbiamo visto che comunque in campo c'erano dei ragazzi che potrebbero ancora giocare con l'Under-19. È bello, è una cosa importante, è una cosa di prestigio e mi fa molto piacere per il mio club, mi fa molto piacere per i ragazzi dell'Under-19 e il loro allenatore perché hanno raggiunto veramente un obiettivo straordinario. E vorrei chiudere se possibile facendo gli auguri a tutte le mamme domani, è una giornata veramente molto importante, gli auguri a mia mamma, gli auguri a mia moglie che è mamma, e gli auguri a tutte le mamme del mondo, ma un auguri in particolare a tutte le mamme di Spallato, a tutte le mamme che ci seguono con grande calore e con grande affetto.